Il mio cane è un compagno di lavoro, è un pastore belga a Malinois di 8 anni e dal giorno 10 durante un temporale ha scavalcato il cancello e non riusciamo più a trovarlo. Qui stiamo in questa zona dove è pervenuta una segnalazione dell'avvistamento del pomeriggio del giorno 10. A tutt'oggi ancora non riusciamo ad avere notizie. Voglio rivolgere un appello a chi dovesse trovarla o vederla che il cane è abituato a interagire con l'uomo, quindi non è un cane cattivo. Possono tranquillamente chiamarla e legarla, si hanno l'opportunità e segnalare il ritrovamento ai numeri che ho lasciato. Non è né un cane eroe né noi siamo degli eroi. Noi facciamo il nostro lavoro e lei si diverte a cercare le persone perché lei è sempre un gioco, non esistono eroi. È opportuno in questo caso tenerla a sé, legarla magari anche con un laccio, qualsiasi cosa pur di non farla allontanare. Magari tenerla così, accarezzarla che il cane è tranquillo e chiamare immediatamente al mio numero di cellulare. Un colore rosso carbonato, ha una maschera completamente nera, ha una razza particolare che qui in zona non esistono, quindi credo che sia l'unico esemplare che c'è nella provincia, non nella provincia di Benevento ma soprattutto nel mio comune di Apice. È un appello che voglio rivolgere ai comuni limitrofi, se riescono a individuarla, di segnalarla ai vigili urbani, ai carabinieri, dove io già ho esposto denunce.